la dirompente intervista rilasciata da belen rodriguez a domenica in riscrive tutto quello che la conduttrice argentina e l'ex marito stefano de martino avevano raccontato a proposito del loro rapporto in particolare riscrive quanto la stessa belen pochi giorni prima che la storia d'amore con il conduttore rai terminasse raccontava verissimo parlando dell'ennesimo ritorno di fiamma il primo tradimento l'ho scoperto a gennaio del 2022 un mese dopo essere tornati insieme ndr non mi ha mai amata non mi è stato vicino quando sono caduta in depressione ha raccontato belen di fronte alle telecamere della trasmissione condotta da mara venier eppure nel periodo al quale rodriguez fa riferimento in raccontava tutt'altro la storia tra stefano e belen è naufragata definitivamente o almeno così pare tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2023 anche in considerazione del fatto che la showgirl è apparsa per la prima volta in pubblico accanto a elio lorenzoni il 14 luglio 2023 in occasione del compleanno di ignazio moser proprio in quel periodo rodriguez avrebbe cominciato a soffrire di una profonda depressione nata stando a quanto ha raccontato domenica scorsa su rai 1 dopo avere scoperto i tradimenti dell'ex marito belen parla di 12 episodi 12 donne che avrebbero ammesso il flirt con il conduttore di bar stella sostiene che la scoperta del primo episodio risalga a gennaio 2022 quindi immediatamente dopo il loro ritorno di fiamma eppure a giugno meno di un mese prima del periodo di depressione vissuto e della rottura definitiva con stefano di fronte a silvia toffanin la showgirl raccontava un uomo profondamente diverso un uomo degno della sua stima perché capace di gesti straordinari una versione dei fatti che col senno di poi stride terribilmente con quella resa qualche giorno fa di fronte alle telecamere di canale 5 belen non fa mai riferimento ai presunti tradimenti né all'apparente disinteresse di stefano nei confronti delle sue condizioni di salute motivi che a pochi giorni da quell'intervista tv subito dopo le vacanze in barca alle isole eolie l'avrebbero spinta a lasciarlo spinta a lasciarla Grazie a tutti.